Now I'm on the outside Che la scorsa l'ho vinta con Odin Vediamo se Arthur riuscirà a farci vincere Siccome siamo arrivati prima nello scorso episodio Ho due cose da aprire Ovvero un Elite Bag che andiamo ad aprire subito E ho trovato la maglietta Butter Royal Quella bianca che mi vado a mettere subito E poi ho un'altra cassa Tu Arthur per cose mimetiche? Nada di nada Uh la maglietta nella figa Aspettate mi metto questa Ah boh ragazzuoli Allora Mentre aspettiamo che si carica la partitozza Metti in pausa e ci becchiamo appena si carica la partita Ok ragazzuoli eccoci qua Siamo spawnati sulle montagne Un punto abbastanza penoso Darca cerca di andare verso la torre radio No no sotto la torre c'è questa casa dove troviamo le cose Cerca di seguirmi Io non so dove sei perché se mi guardi indietro Però dietro Tu seguimi Cerchiamo di arrivare qua sotto Non la visuale Cerchiamo di arrivare almeno in questa casa Prima di tutti così non ci fregano le cose Allora siamo i 91 giocatori Più della scorsa partita Speriamo anche di trovare un veicolo Perché farcela a piedi è abbastanza una pazzia Sta piovendo Arto dimmi quando tocchi terra Così non ti sparo Sei dentro casa? Sto entrando Accingiti ad entrare Allora Stivalozzi Già ce li ho Ho trovato una pistola Una pistola e basta Arto sei tu giusto? Sei vestito come me Ok Non c'è niente Arto Trovo anche lo zainetto inutile Un attimo apriamo la mappa Ci troviamo nel settore E8 Quindi siamo E In Cristo Zionia Dobbiamo andare verso est Per arrivare qui Quindi Arto Dove hai le spalle? Arto ce n'era un'altra qua Ceco Pistola? Eh la lasciata per te Ma l'avevi capito? Gentile E c'è anche una granata Alla scelta per te Perché le granate non le sai usare Allora qui c'è un bar Becchio inutile Ehm Poi cosa c'è qua? Niente Arto andiamo verso est Facciamoci questa bella camminata Eh piano È uno a uno Allora controlliamo questa Io sono dentro la casetta Poi entra Allora ci sono Forse quasi Ecco finito C'è una pistola con i colpi Facciamo prima di entrare qua Però va bene Ci sta Allora carichiamo qui la pistola C'è un arco Un'altra pistola che mi prende i colpi Ok Il bagno Guardi i capannoni Sì Entra qua Arto Che c'è lo zaino per te Abbiamo già trovato uno Ah ok Ah e viene anche qua Che c'è il casco militare Che c'è? Anche qua E due caschi militari Ma dove sei andato? Tactical Ehi Roby Quelli fuori Dalla casetta Ah quelli di legno Ma non ti vedo Arto Più pezzo Revolver Arto dove sei? Aspetta Non ti trovo Il garage non si può aprire Ah beh Arto ci incontriamo dentro casa Entri in casa E poi andiamo a pleasant Bravo Ecco guarda qua Ah Andiamo Andiamo Aspetta eh Metto anche la magnum Sì ma la magnum Tanto inutile Becca soltanto Se ce l'hai davanti al naso Eh vabbè Allora School graphic E non mi fa metto Andiamo Forse non è neanche i colpi Per quella pistola Ecco No ce li ho Ok Allora andiamo ad est Vediamo la mappa Sempre la stessa Oh macchina Arto C'è la jeep Così non ce la dobbiamo fare più a piedi Lootiamo qui Dentro queste cose E poi andiamocene subito Abbiamo trovato la jeep È proprio un miracolo Prendo il casco meglio Quello che ora Il casco da militare È il meglio di tutto Quindi non cambiarlo Qua non ce n'è armi per te Arto Perché adesso il problema sei tu Che sei senza armi Allora Qui cosa c'è Niente Niente Ok Arto non c'è niente qua Andiamo sulla macchina E andiamo Cos'è Mock Smock grenade Ah la smock Ok Vediamo se la macchina funziona Sì tutto a posto Andiamo Verso Nord Boom Guarda che motore Potremmo Aspetta no Arto Controliamo queste case Che di solito Sono piene di armi Che me non faccio ammazzare C'è una Molotov Un pompa Che me lo prendo io Mi serve io il pompa Ok Pistola Colpi della pistola Che non ti servono Arco che non serve un tubo Vedi se ci Vai anche nelle altre case tu Io nel frattempo qua Prendo uscite cose Ok Arco E mi raccomando Quando vai dentro le case Stai col pompa in mano Colpi della revolver Vabbè chi se ne frega Posto Un macete trovato Sbrigati Altra pistola No Devi trovare la R16 Se non trovi quella Niente Io vado nella casa dopo Tu vai in quella blu Quella che ti trovi accanto E' strano Che non c'è dato mai nessuno qua Meglio così Allora Casa vuota Casa vuota Colpi ancora della pistola Che ne ho troppi Quanto sono arrivato? 35 colpi Vabbè Ho trovato la chase bait Di Legno Vabbè Meglio di niente a posto Tu hai trovato qualcosa Nella casa blu? E' Soltanto tipo pistola Nossa Vabbò Sali in macchina Andiamo verso Cranberry E' un macete Ah ma sei ancora là dietro Non sei nella casa blu Allora la luto io va C'è un arco Qua ci vorrebbe essere Quella marrone No quella marrone E' già la lutata Arto entra qua dentro Vedi se Se non sbaglio Qua ci sono sempre armi Strano che non ce n'è Adesso Pistola Caschietto Niente Vasca da bagno Andiamo dietro la porta Se c'è i fixed aid kit Non c'è Alta granata Vabbè Niente Giochi con la pistola L'alto Uh è dark medikit Dove Vabbè prendi Torni già Ne ho due Andiamo Prima che ci fregano la macchina Allora il gas è spanato Si sta avvicinando Noi dobbiamo andare al nord Cerchè me di non perderci E di non finire la benzina Ne ho 28 di proiettili Per la pistola che mi hai dato te Io ne ho 35 Ce n'è troppe pistole Ah puoi sparare dalla macchina Se lo sai Ti ho visto Ok Dal tuo video di rotting Non del tuo Ok Allora Hanno messo troppe pistole Però la K e l'R15 L'hanno diminuito Strano Speriamo almeno di droppare Prendere qualche ari Troppo Non lo so Allora Noi stiamo andando verso Dobbiamo andare a nord Quindi verso H9 H9 cos'è H9 Siamo ancora qua sotto Dove riuscire a beccare la strada Comunque se tu vedi qualche ari Troppo Dimelo che abbiamo la macchina Ci arriviamo subito Io penso a guidare È rimasto in 38 Sì lo so Buono così Che cosa sono questi urlato Chi stai torturando No bambini Ignati che sono Abitano vicino a me Ok Allora Verso Questa è la strada Nord Ah ok c'è la strada dritta Che porta a cranberry Qui ci sono delle urlato Fermiamoci E vediamo se c'è qualche arma per te Manco le ho viste Sì Vedo delle armi Non so cosa sono però Qua colpi del pompa Ok Sto con l'R16 in mano Non si sa mai Controlla tutte le urlato Proiettili Proiettili Tonnellate di proiettili della revolver Arco No ma veramente Hanno diminuito le armi Zaino First aid Che testo mi serve Molotov Niente Guardiamo l'ultima rullata E poi ce ne possiamo andare Questa era aperta Arto Ce l'hai stato tu? Penso di sì Vabbò Sali sulla cosa Andiamo Ah Ti sei dimenticata una No quella la dovevi vedere tu Era l'unica che ti avevo lasciato Ok Il gas è ancora qua sotto Ma a posto Arto Posciamo andare C'è la macchina Ah ma quella è un'altra macchina Vabbò Teniamoci questa È più figa Hanno aumentato allora i veicoli Perché noi ne ho mai trovati così tanti Usiamo un pochino di turbo Abbiamo tanto 70% di benzina ancora Una jeep Due jeep Arto davanti a noi Spara Incomincia a sparare Guarda Sono in gruppo Quei due Cavolo Arto pompa in mano Arto pompa in mano Gli sciotti le macchine col pompa Eh si vengono davanti Eh infatti ora gli vado io davanti Dobbiamo cercare Però guida bene eh Basta che gli spari Arto Va bene Non so dove sono andati Ma perché andavano verso sud Se è la zona Ah sono andati là dove abbiamo luttato noi Arto Noi siamo in alto Quindi se scendono Li possiamo ammazzare Quindi? Un attimo Sono scesi forse Arto Loro non ci vedono da là sopra No ok Una ci ha visto Arto pronto a sparare? Dov'è? Sotto di noi Ah no Tutti e due sono Che facciamo Arto? In seguimento alla Fast and Furious? Ma Boh Eccole Arto loro non possono sparare Tu sparagli Col pompa ok? Vai Arto Sono fermati Debeccate almeno col pompa? Sì Due volte Ok Per ricarico? Pronto Pronto a sparare Ancora Due volte quella di sinistra Ok Infatti sta andando a fumo o no? Completamente Si sono fermati Ora ci sparano Arto Lasciamoli Andiamo via da qui Ok Il problema è che Anche noi se avevamo due macchine No non potevamo sparare Se avevamo due macchine Quindi non ci conveniva Ah boh Andiamo verso città E vediamo cosa fare Allora lascio Loro se ne devono andare Oh 6 colpi in canna Più altri due Poi finisce Te li metti in macchina Oh Dark Prendi le buttele a terra A terra Con la terra A terra A terra Arto Pronto a scendere Perché qua c'è una delle case Che ci possono servire Per vedere se c'è qualcosa Tante tante case Ok Non dividiamoci Stiamo uniti Qui ci sono delle giubbotte Antiproiettili per te Prenditeli E ovviamente E ovviamente il regista Che ci sono i cani Che abbagliano E i sacchietti Quelli grossi Sono giubbotte Antiproiettili Basta che li clicchi Te li mette Ok siamo a 28 player Qui c'è una specie di Come si chiama Meccanico Anzi no è un bar Corpi di pistola Smoke che non serva Un tubo Niente Aspetti Una k Sempre se non l'hanno tolto Dove ci troviamo Che noi siamo Al centro Della Punto di lotta Luttiamo tutte queste case Perché ci può essere Qualcosa ci può servire Teglie della minchia Cosa Teglie della minchia Perché Bloccano Ah ho trovato un pompa Non ci serve a niente Vado in una casa di legno Ok Tu vai in quella sinistra E vado in questa Trenta secondi E la mappa si restringe Arco Ma strano Non c'è un tubo E qua non c'è stato nessuno Perché ci sono parecchie cose Revolver Inutile Spremmo che non ci freghino La macchina Ma c'è Ma queste sono le case Che ci sono sul lago Ok Tola La sfiga Proprio Ma è già C'è la sirena Stanno passando gli aerei Del drop Del gas E ha entrato Vado verso la macchina In interarmi Sì sì Andiamo in macchina Mi ha incontrato Quale davanti A me ho visto Un bombardamento Lì in fondo Sì sì Ah ma forse C'è l'aerdrop Lì perché Quando bombarda Di solito è così Plated body armored Wooden Ah plated è quella Di ferro forse Sta sparando Ah è l'aerdrop dark Dove? C'è il fumo Ma qual è la nostra macchina? Sparano Arto dove sei? Parla in chart Così ti vedo Arto? Sto parlando Cazzo Eh vedi se mi vedi tu? Sì Sì ti vedo E dove sono rispetto a te? Avanti o dietro? Dietro Ok Arto Gli spari venivano da destra Noi abbiamo perso la nostra macchina Perché l'ho vista saltare in aria Non so come sia possibile Eh sì c'era il fumo della nostra macchina Dunque qua ci sono colpi del pompa Prenditeli E andiamo subito a prendere l'aerdrop Dopo immediatamente Sopra sullo scaffale Non li vedi? Sticco arancioni Se non sbagli sono del pompa No Sì Nella pistola Ah ok Andiamo a prendere l'aerdrop Segno Magari possiamo trovare qualche Cioè è sicuro troviamo qualche arma Un altro bombardamento NARC Tu parla Là 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 Che c'è? Vedo più Sono verso Esci veloce Sono usciti da casa Eh mi vedi Dal retro gli sono usciti E andare verso il lago Verso l'aerdrop Parto Verso l'aerdrop Ok Mi vedi Forse hanno diminuito il costo della voce Perché prima con Otim Non riusciamo a vederci anche attraverso le montagne Adesso no Guarda ti ricordo che c'era il microfono che ha rotto Eh sì però da te si illumina lo stesso Ma non funziona Comunque stiamo attenti perché erano vicinissimi Sfari di prima quindi Entri in casa Entriamo dal retro Sì controlliamo sta casa E poi prendiamo l'aerdrop Qua non ci sono mai state nuova sta struttura Tagliamo? No Arto Dobbiamo prendere l'aerdrop Velocemente pure Veloce 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 E lui dai Io prendo le cose Arto E poi ci rifugiamo dentro casa E te li do Io con c'ho il pompa posso coprire da tutte le parti Col pompa Medikit R15 per te Me lo metto nello zaino Anzi Prendilo tu Arto Ci sono anche i colpi Veloce veloce Prendi Clicca Clicchi una volta e te lo mette Butta qualche arma che in più Dobbiamo andarcene subito da qui E chi stufuma tira il mondo Volvere Dare porco Veloce Arto L'hai preso anche i colpi Sì Ok andiamo Attimo e qua c'era uno zaino verde che mi serviva Ok saliamo dunque alla casa Occhi aperti Carico Ah finalmente è un'arma Possiamo sparare in due C'è anche il piano di sopra Non l'avevo visto Può essere un punto buono per camperare Perché È al centro Per il momento Finché non si restringe ancora C'è qualcosa in quell'altra stanza O è tutto vuoto No Vuoto Però Adar che hai fatto che Chi è? Ho comprato il gioco Ci ho giocato una volta e basta Quindi non sai sparare Bene Arto Molto rassicurante come cosa Esatto Andiamo a vedere se c'è ancora la nostra macchina Anche se l'avevo visto andare in fumo Avevamo lasciato dietro quelle case bianche là davanti Stiamo attenti anche agli alberi Cioè ti tieni premuto alto In modo che ti giri attorno di visuale Però ho fatto che quando la lasci Voi in quella direzione No Quando la lasci Ritorna di nuovo a guardare in avanti Mai mi fa mandare in quella posizione lì Buu forse la dovresti settare Allora 30 secondi E c'è di nuovo il gas Ecco ancora la nostra macchina è qua forse Sento il fumo Allora vamo nascosti e entri ci spugli Manco me ne ero accorto Ok Ok si è salito Spugli che entrano in auto Tocco di classe C'è la macchina? C'è i colpi del pompa? Pompa 2 Ah tanto è l'R15 Spara con quello Spara con l'R15 Intanto abbiamo ancora un pochino di benzina Guardiamoci attorno Hanno rilasciato ancora il gas Quanti player mancano? Non lo so aspetta L'acetto non me lo fa leggere Saremo una ventina Massimo Qui c'è un campo rom Però ormai non ci serve niente Quindi giriamo con la macchina Aspetta Voglio provare a riempire la macchina con la benzina Refuel vehicle Devo stare fermi C'è l'aumentata di 30% Ok St'a benzina ci basta per tutta la partita Giriamo Facciamoci inseguire dalla polizia Allora qui c'è il gas Arto secondo te Dove possono essere? Perché drifta la macchina? Sotto terra Eh sì Possibilmente sono tutti nascosti sotto terra Il problema è che dovremmo capire Dove cavolo si restringe il cerchio In modo che no Ci andiamo a mettere nella montagna in alto A sparare Però abbiamo trovato un cavolo di cecchino Secondo me è su E E sì c'ha 9 tra GH 9GH Vediamo 9GH Qui Ma noi siamo qui praticamente Aspetta La mappa si restringe Ci è spostato totalmente G8 e 9 Dobbiamo andare all'incrocio Che c'è di qua Il problema è che hanno fatto Che questo cerchio Si sposta a caso adesso Non è più che man mano Si restringe sempre Nello stesso punto Quindi è molto difficoltoso Ci sono quasi tutti i player Magari Non penso che il server Sappia dove sono tutti i player Vabbò Andiamo Quanto dovrebbe essere qui Appena c'è l'incrocio qua Dessa siamo al punto perfetto Sparono alla nostra sinistra Anzi a destra Quello sentiti 18 Tento soltanto la macchina Io Eh dovresti abbassare I suoni del gioco Allora è passato Un'altra Troppi gli spari Erano qua a destra Quindi guarda verso il bosco Ecco lo vedo Li vedi? Arto? Sì Arma in mano Sparaghi La macchina la schiaccia What? L'hai visto? Però come d'arco Minta guidi Sparaghi Guarda Arto scendi Ah lo sto blindando Scendiamo Scendiamo Curati Ti hai ammazzato Un HP No Non ci credo Arto Un HP Mi hai lasciato Non mi puoi tirare Cerca di vincerla per me Questa partita Prendete l'ho fatta Io la kill Però manco me l'ha contata Perché sono morto Prima di ammazzarlo Ad Arto Prendi qualcosa per me E cerca di vincerla Sono arrivato Quindicesimo Supergio Quindi ragazzuoli Questo video finisce qui Arto nel frattempo Sta campinando su di me Vi ricordo di passare Al suo canale Che non c'è E ci becchiamo La 17 Con un nuovo video Su Minecraft Ciao ciao